Pede Montana, una parola che comunque richeggia sempre nel campo della politica che ha creato anche in passato delle incomprensioni, delle polemiche. Quali sono le novità? Il Consiglio Comunale ieri sera non ha fatto una norma, modifiche, regolamenti di inizio e altre cose. Ha chiuso una richiesta che era arrivata partendo dagli uffici l'anno scorso e poi gli uffici avevano scritto al segretario. Il segretario aveva detto che il Comune è dotato di una commissione che si occupa di queste cose e quindi è giusto che affrontava il tema e ha scritto al sindaco, questo è successo nel periodo natalizio. Sul sindaco scrive alla commissione e gli dice c'è questo tema, affrontatolo e fateci uno studio. Era il 5 di gennaio. La commissione ha preso tutti i documenti di questo argomento, l'ha studiato. Alla fine l'ha sintetizzato in un documento di 16 pagine in cui c'è alla fine una tabella. Non ci sono nuove norme, perché le norme sono sempre quelle, ma è stata data l'interpretazione delle stesse norme. La commissione è che l'ufficio e quindi il segretario che adesso ad interim ha anche il compito di dirigere questo settore, questa direzione, si comportino per come la commissione ha indicato. È chiaro che quel documento che è stato fatto è un documento politico, non è un documento tecnico, anche se in commissione siamo quasi tutti tecnici. Quello che accadrà adesso è che l'ufficio dovrà valutare, anche il segretario dovrà valutare quel documento che abbiamo fatto noi e decidere il modo in cui comportarsi. Allora, è strettamente legato all'urbanistica, comunque all'edilizia, l'edilizia che è un po' in crisi. Questo può essere un primo passo per un nuovo modo di vedere l'edilizia d'Alcamo, un rinascere all'edilizia? L'edilizia, come anche un po' tutta l'economia, è fatta anche di fatti psicologici. Cioè quello che conta è questo. Nella città si è ingenerato un clima di sfiducia, francamente veramente di sfiducia, che a parte la crisi di livello mondiale, generale, ma in più ci sono dei fatti locali che hanno totalmente bloccato il mercato. Quindi quello che ci aspettiamo adesso è che tramite questi indirizzi, tramite la conduzione forte dell'urbanistica, tramite indirizzi chiari, in modo che ognuno sappia quello che si può fare, quello che non si può fare, anche gli investitori, chi ha soldi da investire, abbia la certezza di quello che fa e quindi possibilmente si rimetta fiducia nel mercato, che attualmente è uno dei tanti fattori di crisi, forse il più importante di tutti, è il fatto che la gente che magari potrebbe investire si frena e non investe. Quindi veramente notiamo lo stallo totale dell'edilizia. Quindi un'urbanizzazione più logica rispetto al passato? Il piano regolatore del 97 nasce da un'analisi demografica che diceva che c'era un aumento della popolazione di circa 1000 abitanti, quindi quello che si è fatto all'epoca era dotare la città di servizi, ma anche di residenze per questi 1000 abitanti, quindi ci sono anche nuove costruzioni e così via. Il tema di adesso è, con l'analisi demografica di adesso, con la popolazione che non cresce, e invece quello di riqualificare i quartieri, dotarle di attrezzature, e i temi ed edilizzi sono diversi. E quello che vorremmo adesso è che la città inizi a ragionare di questo, cioè di come deve essere fatto il nuovo piano regolatore, quali sono i cardini e così via. Lì la politica ha un ruolo decisivo, forse la parte più bella e più importante del consigliere comunale è proprio questa, ragionare dalla città del futuro. Quindi allora non un'espansione, ma riqualificare quello che già c'è. Allora, detto in slogan, potremmo dire consumo di territorio zero. In pratica sì è questo, perché abbiamo sprecato troppo territorio, questo è evidente. Immagino che grandi espansioni non ci potranno essere, però siccome è sotto gli occhi di tutti che la qualità edilizia nei quartieri di Alcamo è scadente per una serie di motivi, sia dall'edilizia in sé, ma soprattutto la dotazione di infrastrutture.